Chissà quanta forza ci sarà voluta per raccontare quelle violenze a distanza di anni. Chissà dove avrà trovato il coraggio di presentarsi dagli inquirenti descrivendo loro le atrocità subite quando era ancora una ragazza. Forse nella consapevolezza che senza la sua testimonianza tutto sarebbe stato messo a tacere ancora una volta. L'età non l'ha fermata, anzi, forse l'ha dato quello stimolo in più. Ma sono poche, pochissime, le vittime delle marocchinate che nel corso degli anni sono riuscite a parlare apertamente della tragedia che hanno vissuto sulla propria pelle. Alcune lo hanno fatto, ma adesso non ci sono più. Avrà forse sentito tutta la responsabilità sulle proprie spalle l'anziana donna di Amaseno che qualche giorno fa è stata convocata presso la procura militare di Roma che a distanza di 74 anni ha aperto un'inchiesta su quelle che ormai tutti conoscono come marocchinate. Veniva utilizzato negli anni 40, proprio a seguito delle violenze, per identificare quel tipo di violenza. Ma logicamente il corpo di spedizione francese non era composto solo da marocchini, ma anche da tunisini, algerini e senegalesi. Le truppe coloniali francesi di solito non avevano mai un rapporto di violenza una a uno, ma di solito violentavano in gruppo. Un'intervista del 1995 fatto a Amaseno, una donna violentata, disse che era meglio che moriva all'epoca che portarsi questo dolore fino ad oggi. Tante volte nel leggere le testimonianze io pianto, ma perché immagino anche il dolore di queste donne violentate, che oltre alla violenza hanno subito anche una specie di marchio all'epoca, come se la violenza era colpa della donna. Tantissime donne hanno, a parte preso malattie venerie, altre, quasi tutte, hanno fatto degli aborti clandestini. Quindi, oltre alla violenza fisica, c'è stata anche una violenza psicologica che hanno subito negli anni, fino alle loro morti se la sono portata dietro. Violenze inaudite, stupri di gruppo, donne, bambini e uomini uccisi. Trovare testimonianze è stato difficile. Ancora di più lo è stato individuare prove, raccogliere documenti storici, spulciare gli archivi. Tutto materiale, adesso confluito in un libro. Ciotti lo ha portato alla Camera dei Deputati, dove ha incontrato senatori e deputati della Lega. Zicchieri, Ruffa e Gerardi hanno assicurato il proprio impegno per portare in aula al più presto una proposta per la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Noi chiediamo giustizia, giustizia per le donne violentate e per le persone uccise. Ci sono stati tantissimi bambini che all'epoca furono violentati, così come tantissimi bambini. da un'età minima di 7 anni a un'età di circa 80 anni. Tantissimi bambini o signore anziani, adolescenti, sono anche morti per le grave conseguenze subite, le gravi lacerazioni che hanno subito dalle violenze. Noi ci auguriamo che la procura militare o le altre procure facciano giustizia per quanto riguarda queste vittime.